e ciao a tutti ragazzi amici interisti bentornati sul canale oggi giornata splendida per noi interisti perché questo stemma qua questi colori qua questa maglia qua compie 113 anni di storia ragazzi 9 marzo 1908 9 marzo 2021 auguri eterno amore ragazzi auguri all'inter auguri agli interisti e come festeggiare questo bellissimo compleanno della nostra bene amata con una vittoria strepitosa guadagnata coi denti e col carattere e col cuore sull'atalanta ieri sera a san siro bentornati in questo nuovo video ragazzi prima di partire con tutti vi ricordo di iscrivervi al canale se non avete fatto e di seguirmi su instagram e per il resto adesso parliamo della partita di ieri sera ragazzi tre punti che valgono oro che non erano per nulla scontati e il campo lo ha dimostrato perché avevamo di fronte una squadra che si sapeva avrebbe fatto del possesso palla e del pressing alto le sue caratteristiche sono le caratteristiche dell'atalanta quindi si sapeva la partita che avremmo dovuto affrontare e la squadra che avremmo dovuto affrontare ma ragazzi come è stata preparata questa gara da antonio conte raga come è stata preparata questa gara da antonio conte e come i ragazzi che sono scesi in campo ci tenevano a portare a casa questa partita raga c'era l'autaro che faceva il terzino l'autaro faceva il terzino raga l'autaro faceva il terzino tanta tanta roba e per milanisti giuventini e qualsiasi altro tifoso che mi vengono a dire e avete vinto perché avete fatto il catenaccio siete l'anticalcio io vi ricordo che murigno ci ha vinto la champions league il campionato e la coppa italia giocando così ha vinto a barcelona ci ha perso a barcelona 1 a 0 ma siamo passati giocando così perché nel calcio non sempre bisogna giocare bene per vincere e poi tra l'altro i cinque scudetti che avete vinto cano allegri come li avete vinti come li avete vinti no perché non è che i allegri mi sembrava proprio il guardiola della situazione che faceva girare palla faceva tiguità per di qua di là li avete vinti così li avete vinti quindi non mi venite a rinfacciare del fatto del catenaccio e robe varie perché anche quest'anno in coppa italia voi come siete passati come siete passati chiudendovi dietro in difesa facendo golli chiudendovi dietro quindi non mi venite a rompere ieri l'inter ha fatto la partita che doveva fare che doveva fare e appunto per questo è l'unica squadra ad aver battuto l'atalanta tolto il napoli alla gara di andata 4 a 1 vinta dal napoli ma in tra le big l'inter è l'unica ad aver battuto l'atalanta l'unica forse forse perché va affrontata così l'atalanta va affrontata così gli vanno chiusi gli spazi ci bisogna bisogna mettersi tutti dietro bisogna soffrire bisogna e alla minima occasione bisogna purgarli purgarli minimo sforzo massima resa grandi ragazzi grande inter che vittoria scrigna mamma mia ragazzi scrigna scrigna quest'anno sei sei punti che abbiamo li dobbiamo scrigna li dobbiamo scrigna sei punti che abbiamo dei nostri 62 sei ce li ha fatti scrigna col verona e ieri sera per non parlare delle altre super prestazioni che questo giocatore sta fornendo quest'anno ragazzi completamente ritrovato ritrovato sono troppo contento raga ma qua si elogia scrigna oggi perché vabbè ha fatto il gol vittoria che ci dai tre punti ma tutta una squadra raga davvero strepitosa forse se devo vedere un peggiore in campo dell'interi di sera vabbè tolto vidal ragazzi che tolto vidal per favore non parliamo di vidal perché io questa è l'unica scelta che rimprovo il racconto è perché dopo un mese e mezzo quasi che vidal non vedeva il campo e che ericsson stava continuando a dare prestazioni ad alto livello io quella scelta di vedere vidal in campo proprio non mi è andata giù non l'ho capita e meno male che vidal oh guarda caso è uscito vidal abbiamo segnato guarda caso è uscito vidal abbiamo segnato non ce l'ho con vidal non ce l'ho con vidal però ieri sera ragazzi inguardabile vidal inguardabile non potete dirmi non potete dire il contrario ieri sera vidal inguardabile purtroppo è da così ieri sera per vidal e appunto dopo vidal secondo me peggiore in campo ma peggiore in campo è da sei comunque perché da sei barra sei e mezzo è lukaku è lukaku ma non perché ha fatto cagare ma perché si è divorato due gol clamorosi romelu ti vogliamo bene sappiamo quanto corri durante la partita la partita che hai fatto ieri con jim city un duello infinito però quei due gol lì quei due gol lì quello nel primo tempo dove non la dai da chimi e con nel secondo tempo dove scivola toloi rubi la palle poi cazzo più cattivi però comunque raga non mi non me la sento proprio di prenderla con rumelu c'è io davvero ragazzi io con lukaku non riesco ad incazzarmi forse sì sul primo momento ieri sera glielo ho detto quasi di ogni però capitemi c'è poi oggi a mente fredda ripenso comunque a tutti gli sforzi che ha fatto ieri lukaku e gli faccio applausi su applausi su applausi cazzo che partita anche ieri sera big rom a lottare in combinazione con jim city che tutti l'hanno elogiato ma jim city stava costantemente così con le mani addosso così a lukaku per tutta la partita ragazzi jim city è clamoroso è un'eresia che si è uscito dal campo senza neanche il cartellino giallo è un'eresia secondo me poi fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate ha fatto una bella partita non lo metto in dubbio non lo metto in dubbio non sto dicendo che jim city abbia fatto una brutta partita però ragazzi tutto il tempo con le mani addosso i difensori dell'atalanta è una cosa scandalosa secondo me poi in molti hanno anche parlato del del gol dell'inter che sia da da annullare allora sappiamo che avete il fegato lì che si sta logorando piano piano il vostro fegato avete un bruciore di culo prendetevi un malox prendete prendetevi un malox prendetevi un malox vi sedete sulla poltrancina riguardate il gol e con il malox forse riuscite a vedere anche che bastoni è in posizione regolare bastoni posizione regolare lukaku non lo studisce il suo traiettore di sportiello cosa volete cosa volete da quel gol gol sano sano cosa che invece non è il vostro fegato che è spappolato il gol è sano il vostro fegato è spappolato mamma mia ragazzi oggi oggi sono troppo contento perché ieri sera ieri sera c'era giuventini milanisti che non li abbracciati atalantale atalantale erano lì tutti tutti così ammassati davanti alla tele col trespolo qua col gufino qua sulla spalla pam pam minascriniar pam minascriniar 1 a 0 a casa mamma mia raga godo 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 iscrivete a cannes se ancora non l'avete fatto commento mi piace raga e ancora una volta salutate la capolista salutatela ancora ora ci sono 12 partite importantissime da portare a casa ragazzi la strada è ancora lunga però però partita dopo partita stiamo dimostrando che davvero è alla nostra portata il campionato forza ragazzi continuiamo su questa strada e concludo il video baciando ancora questo bellissimo stemma questi bellissimi colori tanti auguri inter grazie che ci fai vivere queste emozioni e raga bella ci vediamo alla prossima live reaction io vi invito appunto ancora iscrivetevi al canale e niente amala sempre grandi ragazzi continuiamo così